Ciao ragazzi, per me l'atletica e anche tutto lo sport significa il momento in cui sono più felice, più in pace con me stesso, in cui mi sento più me stesso e anche il momento in cui sono più libero quando corro, quindi è qualcosa di bellissimo e vi invito tutti a provarlo. Un abbraccio!